Ehi, che succede? Scusi, ma lei chi è? Dai, è lui, non è vero? Ehi, chi sei? Sei venuto a cercare guai? Avanti, rispondi! Parola, guarda! È solo un ragazzo, non ha paura di tenere testa una squadriglia intera. Chi ti ricorda? Sei tu, bastardo? Hai distrutto tu gli avamposti del deserto, vero? E ti dico di sì. Che mi fai? Bastardo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!